Allora, facciamo qualche esercizio sui radicali, le regole le abbiamo viste quasi tutte, se qualcosa non le integraremo, facciamo per esempio con, quindi se non c'è la dice pubblica di 24, cosa suggerite? Posso semplificare questo radicale? Sì, no, non so, c'è ancora qualcuno fuori? Sì, perché posso semplificarlo? Sì, è vero, perché posso semplificarlo? Cosa controllo per sapere se lo posso semplificare o no? Perché 24 contiene un cubo, è multiplo di 8, che è il cubo di 2. Posso scomporlo in 3 per 2 alla terza. Ora, 3 non è un cubo, vabbè, quello rimane sotto radice, ma il 2 alla terza posso portarlo fuori dalla radice, cioè posso spezzare la radice del prodotto nel prodotto delle radici, radice pubblica di 3 per radice pubblica di 2 alla terza. Qui non posso semplificare niente, ma qui sì. Quindi questo rimane radice pubblica di 3 per 2. Di solito le radici si mettono alla fine, 2 volte radice pubblica di 3. Di solito le radice pubblica di 3. Di solito le radice pubblica di 3. Ok? la radice pubblica di 3. Ok? 32 che potenza è di 2? 2 è la quarta la quinta adesso cosa faccio? 5 non è semplificabile per 4 la radice è quarta di 2 alla quarta per 2 certo 5 posso pensarlo come 4 più 1 quindi usando le portate delle potenze 2 alla quarta per 2 dopodiché faccio quello che ho fatto prima cioè ho radice quarta di 2 alla quarta per dice quarta di 2 e dice quarta di 2 alla quarta rimane 2 invece questo 2 rimane sotto radice perché il suo esponente è 1 e non può essere semplificato per le 4 attenzione un errore ahimè molto comune non posso semplificare questi due 4 questo 4 e questo non sono semplificabili perché? perché questo 4 è esponente solo di questo 2 non dell'altro posso semplificare solo esponenti dell'intero radicante non di una sua parte attenzione è chiaro? è un errore comune ahimè dimmi se si divide quando si divide se lo scrivo qui ho saltato il passaggio ma in realtà è meglio farlo adesso 4 è esponente di tutto radicando quindi qui si che posso semplificare ma non prima ok ci vedete qua su? se lo riscrivo qua qui si posso qui non posso perché qui 4 è relativo all'intero radicando qui 4 è relativo solo al primo 2 non al secondo 2 ok semplifico l'indice di radice con l'esponente di radicando solo l'esponente coinvolge tutto ciò che c'è sotto i radici non solo una parte cancelliamo facciamo un altro esercizio non solo un altro esercizio radice sesta di cento cento e dieci alla seconda e due e sei sono semplificabili e ottengo radice cubica di dieci ok qui dieci non contiene nessun quadro cubo quindi non c'è scontro posso scrivere come 2 per 5 ma non guadagno niente se lo faccio e se non lo faccio è corretto uguale tutto chiaro tutto chiaro tutto chiaro altro esercizio radice quarta di 0,0081 posso scrivere in qualche modo più conveniente ci conviene 8,1 è in qualche tabellina in realtà sì ma è poco evidente conviene con 81 fare una frazione ah posso fare una frazione anzi forse quella scelta più astuta 81 fratto 10 alla alla quarta 1,2,3,4 decimali 81 è il quadrato di 9 che è la quarta potenza di quindi 81 è la quarta potenza di 3 posso semplificare questo 4 e questo 4 no 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 perché questo poi rimane orfano e si vendica subito molto meglio scrivere così adesso si che posso semplificare quel 4 che riguarda tutto il radicando il risultato 3 decimi o 0,3 se preferite l'alternativa è da scrivere non 8,1 per 10 alla meno 3 notazione scientifica che in altri casi può andare bene qui però sconveniente è molto meglio scrivere 81 per 10 alla meno 4 scrivere 81 per 10 alla meno 1 alla quarta 2,4 se semplificano rimane 0,3 o 3 per 10 alla meno 1 che è la stessa cosa diventata potete avvicinarmi se non vedete cercherò di scrivere qui in aria posso cancellare? no 3 per 10 alla meno 1 alla quarta io ho 3 ho 3 alla quarta ok per 10 alla meno 4 faccio in modo che questo 4 e questo meno 4 li raccolgo e metto un esponente comune ok il prodotto delle potenze è la potenza del prodotto e dopo quel 4 che è il esponente dell'intero radicando posso semplificarlo con le miti di radici è chiaro o no? bene io ti invece posso cancellare attenzione a questo radice quarta di 1 più 9 16 di 1 più 9 di 1 più 9 di 1 più 9 di 1 più 9 16 sotto 16 più 9 posso fare più 3 16 più 9 la 10 quadra la 10 quadra di 1 più 10 ma no questo non c'è il meno no scusa mentre facciamo prima per te mentre mi preme che sia chiaro questo comunque avete intuito la cosa da correre mentre la radice di un prodotto è il prodotto delle radici la somma non ha questa proprietà cioè la radice della somma non è la somma delle radici qui per come è scritto prima si fa la somma e dopo la radice ok quindi prima sommo i due termini sotto radice ah questo è un 4 sta dimenticandolo quindi ottengo la dice quarta di 25 sedicesimi entrambi sono quadrati il 2 e il 4 semplifico rimane la radice quadrata di 5 e 4 però prima devo fare è chiaro possiamo fare radice quadrata di 5 fratto 4 certo fratto 2 il 4 essendo un quadrato si può portare fuori dalla radice però rimane a denominatore viene un mezzo radice di 5 oppure se preferisci radice di 5 è tutto fratto 2 con il 2 è fuori si può scrivere anche così è evidente che il 2 non è dentro la radice non si può formare alla frazione 5 quadrata ma in realtà è leggermente incompleta se devo semplificare se posso portare fuori qualcosa dalla radice è meglio parla ok posso cancellare cambiamo leggermente il tipo di esercizio e vediamo se possiamo semplificare per esempio questo radicale radice sesta di 8 a alla terza b alla nona diviso c alla sesta se vengo bene non è non è allora sai la prima cosa che faccio 8 è una potenza in realtà 8 è un cubo quindi lo scrivo come 2 alla terza a alla terza b alla nona c alla sesta ora posso semplificare qualcosa globalmente solo se radicando a un esponente comune cioè un esponente comune a tutto ciò che c'è sotto radice detto in altre parole posso scrivere qualcosa che abbia un esponente comune a tutto quello che c'è sotto radice come sceglio quell'esponente il massimo comune divisore tra 3 3 9 e 6 che è l'esponente minore preso 3 l'MCD quindi 3 diviso 3 fa 1 sotto rimane 2 3 diviso 3 fa 1 rimane A 9 diviso 3 fa 3 B è la terza 6 diviso 3 fa 2 C è la seconda adesso posso semplificare il 3 con 6 quindi ho radice quadrata di 2 A B alla terza C alla seconda posso fare ancora qualcosa? sì posso portare fuori il C alla seconda e un B alla seconda mi rimane un B sotto però di questo B alla terza ok che è B per B per B alla seconda va fuori il B alla seconda di questo C alla seconda va fuori tutto però rimane denominatore quindi mi ritrovo con B fratto C per radice quadrata di 2 volte A B ok ma è necessario se non lo faccio non ho ridotto il radicale A nel modo più efficace possibile attenzione quando quando semplifico una radice pari devo sempre tener conto dell'ambiguità del segno radice quadrata di C alla seconda non è C ma è il valore assoluto di C radice quadrata di B alla seconda non è B ma è il valore assoluto di B ok qua qui in realtà se non aveva un no che aveva un esponente dispari il valore su B si potrebbe anche togliere in realtà facciamo questo radice quarta di 9 fratto 25 x alla seconda per x meno 1 per la seconda 9 è un quadrato 25 anche x alla seconda al quadrato x meno 1 è un quadrato radicando posso scriverlo come il quadrato di 3 quinti x per x meno 1 e poi il 2 posso soddificarlo con il 4 radice quadrata di 3 quinti x per x meno 1 in realtà qui andrebbe un quadrato 2 3 quinti x per x per x per x per x per x perché altrimenti ti dimentichi del segno ok ok Grazie. Puoi cancellare? Un'altra domanda. Prego. Ma non potremmo fare tipo, all'ultima cosa, non potremmo fare la moltiplicazione, no? Non cambia niente. Puoi anche farla. Ok. Non guadagni nulla in senso di semplificare il radicale o di ridurre le lice di radice. Ok, ok. Possiamo fare la ricercitata di x, y, y. Allora, dopo averlo perso, se hai problemato, rimane x, y. Non ho capito. x, y, stonde, seconda, otteniamo seconda, seconda, rimane solamente x, y. No. Un'importa per questa? Un'importa per questa. Un'importa per questo. 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 Decisamente no. Perché? È una somma di quadrati che non si può scomporre e non potete scriverla come la somma delle radici. Quindi questo radicale è irriducibile. Non puoi farci niente. Rimane così com'è. Non puoi scrivere in un altro modo più semplice. Non puoi farci niente. Adesso? Ho cambiato l'esercizio. Dottora dice y, seconda, y, seconda, m, anche meno 2xy. Adesso è un prodotto notevole. Il prodotto notevole è. Il quadrato di un binomio. Il quadrato di un binomio. x meno y. Questi due, e questi due possono essere semplificati. Qualche obiezione. se x fosse due, e y da un po' uno. Lasciamo stare questa. Avrei due meno uno. Uno alla seconda. Uno. Uno. Verdice di uno fa uno. Infatti ho due meno uno che fa uno. Funziona. Se fosse l'inverso, se fosse x, uno e x da un due. Uno meno due fa, alla seconda, più uno. Uno meno due. Avresti che uno è uguale a meno uno. Questo è seccante. Ecco perché si mette il loro assoluto. Quando semplifico, radici di un binomio pari. Così, sono sicuro che il segno è quello giusto. D'altro canto, D'altro canto, come abbiamo già visto a suo tempo, che io scrivo x meno y alla seconda o y meno x alla seconda è identico. Però se butto via i due, questo non è più identico. Allora mi serve il valore assoluto. Questo fa il valore assoluto. Ti evita problemi con i segni. Vediamo un altro. Posso cancellare? Questo è molto facile. La potenza di una radice è uguale alla radice della potenza, in questo caso. Questo due, questo due si semplifica, e lo rimane tre. Ok? Qualcosa di un po' più succulento. che succede se faccio la radice di 5 diviso radice di 15? Si potrebbe? Si semplificare il 5. Ma sono radici diverse. Siccome l'indice di radice è lo stesso, posso scriverlo come radice comune. Adesso è semplificabile. oppure oppure il 15 5 per 3 sotto il oppure si ci puoi fare anche l'altra strada. separo il 5 e il 3 contenuti qua dentro. Adesso si posso semplificare. Questa va bene come la prima, come la precedente. la precedente. Allora, la precedente. Allora, qui sfruttiamo il fatto che il rapporto delle radici è la radice del rapporto oppure equivalentemente il prodotto delle radici è la radice del prodotto sempre che le radici abbiano lo stesso indice se no non vale per esempio la radice di 3 fratto x per la radice di 1 indicesimo per la radice di x alla seconda media qui ho tutte le radici quadrate posso mettere tutto sotto un'unica radice perché la radice del prodotto è il prodotto delle radici di una unica radice grande qui ho 2, 2 e 2 e ho 3 su x per 1 indicesimo per x alla seconda media quindi la radice di x alla seconda media quindi la radice di x è fatto 10 tutto chiaro? quindi la radice di x alla seconda media la radice di x alla seconda media quindi la radice di x alla seconda media qui ho una divisione tra radici qui ho una divisione tra radici fatta la radice della divisione quindi al numeratore ho 6xy al denominatore ho 2x questo 2 è questo 6 si è semplifico e questo è x anche che cos'è? Basta così se non ci sono domande.